Per me fotografare è un modo per incontrare il mondo e la musica mi ha aiutato moltissimo per fare questo. Il mondo della musica offre degli spaccati che sono davvero particolari, in particolare il mondo del jazz dove molto spesso il musicista è se stesso sul palcoscenico e quindi il palcoscenico diventa strumento di indagine. Ogni cosa che noi troviamo sul palcoscenico dalla più utile alla meno utile in realtà è come se fosse la casa del musicista. Grazie a questa idea, possiamo dire, a questo percorso ho applicato poi questa modalità all'interno del mondo del reportage, della solidarietà e delle molte campagne che ho fatto in giro per il mondo perché ritengo che l'indagine sia un modo molto interessante per poter incontrare non solo il mondo ma anche gli altri. Il workshop prevede una parte teorica e una parte pratica. La parte teorica naturalmente la svolgeremo all'interno della sede di FP School, mentre per la parte pratica ci sposteremo in alcuni luoghi consacrati alle esibizioni musicali per poter naturalmente raccontare questi mondi.